Prima però Voglio sponsorizzare Un canale Quello di Antonio Soriente Lo trovate mi raccomando il link qui Cliccate e iscrivetevi Al suo canale perchè quando raggiungeremo Io e lui i 100 iscritti Ci sarà una bella sorpresa Mi raccomando iscrivetevi al suo canale Bene Adesso procediamo con i risultati Bene allora Come stavo dicendo Sono rimasto davvero molto soddisfatto Di questo contest Ho avuto davvero tantissimi partecipanti Precisamente 14 Sono davvero rimasto molto soddisfatto Credevo che avrebbero avuto Molti meno partecipanti Al terzo posto Troviamo The Mega Magic M2000 Con la performance Del déjà vu di Dan & Dave Una performance davvero Eseguita molto bene Quindi Bravo Ti porti a casa Due settimane di sponsorizzazione Più Un tutorial scelta dal mio canale Bene Ora andiamo col secondo posto Al secondo posto si classifica Magic Marco 29 Con il gioco delle tre carte La versione ovviamente Del trucco di magia Mi ha lasciato davvero molto stupito Come sempre Bravissimo E continua così Ti porti a casa Un mese di sponsorizzazione Più due tutorial A tua scelta E infine ragazzi Il momento Più aspettato Il vincitore Il vincitore Del mio contest È Mago Beat Ace of Space Con la performance Di King is on the table Davvero Una performance Stupenda Non l'avevo mai vista Quindi molto originale Presentata molto bene Con la musica E tutto E ho premiato Anche molto La manualità Quindi ho premiato Tutte e tre Le I I criteri di valutazione Quindi Congratulazioni Ti porti a casa Due mesi di sponsorizzazione Sul mio canale Tre tutorial La tua scelta Più una intro Che ti farò subitissimo Domani dovrei averla Già fatta Ci tengo a precisare Prima di salutarvi Che Le sponsorizzazioni Ho deciso di fare così Allora Il terzo Le due settimane Sono due settimane In cui Lo troverete Tra i canali consigliati Più Per Siccome La frequenza dei video Cambia Non so bene Quando riuscirò a caricare i video Farò che In due Nei prossimi due video Sponsorizzerò Il terzo classificato Quindi in questo caso The Mega Magic IMS 2000 Poi Nel secondo Al secondo posto Quindi Troviamo Magic Marco 29 Che avrò sponsorizzato Per Quattro video Più sarà Tra i canali consigliati Per un mese E Mago Beat Il terzo space Che ha vinto Il contest Sarà sponsorizzato Per 8 video Più Verrà aggiunto Ai canali consigliati Per 2 mesi Poi tutti gli altri premi Invece Tutorial Tutorial dovete Contattarmi Via mail Via messaggio privato E mi direte Quale tutorial Volete Quindi Ve li invierò Vedremo poi Come ne fare Via messaggio privato E invece La intro Te la faccio A breve Per il 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 Prezzo Una cosa I vincitori Per chiedermi Che tutorial Vogliono Per dirmi Che tutorial Vogliono Mi dovranno Contattare Entro Dopodomani Al massimo Perché Poi Non potrò Più rispondervi E quindi Per un po' Di tempo Non potrò Più Leggere Il vostro Messaggio Quindi Potrei Se me lo dite Entro Dopodomani Riesco A mandarlo Se no Dovrete aspettare Fino poi A metà luglio Bene Però c'è tutto Credo di aver detto Tutto Dimenticavo Prima di chiudere Che Faccio i complimenti A tutti quanti Anche se non avete Vinto Non mettete Non mi piace Piuttosto Scrivetemi Nei commenti Cosa Secondo voi Ho sbagliato Nel valutare Il video Qualsiasi cosa Però Per favore Non mettete Non mi piace Siete stati bravi Tutti Convito Se ne vincitori A tutti I miei 77 iscritti Oggi 77 Vi voglio Un bene del mondo E ciao a tutti So when we found that we